Amici di Arco Iris, eccoci ad un nuovo incontro con una scrittrice oggi per la nostra rubrica Leggere negli occhi, in cui vogliamo entrare nel mondo degli scrittori. L'ospite di oggi è Lodovica Cima, scrittrice milanese, scrittrice per l'infanzia. Vive, lavora a Milano e avrò alcune cose da chiederle che ho tratto dal suo sito internet molto curioso in cui vengono presentate tutte le sue molteplici attività di chi si impegna per l'infanzia, cosa che tra l'altro mi interessa molto essendo io un pediatra, ovviamente l'interesse è elevato. È una scrittrice molto prolifica, infatti dopo vi mostreremo in seguito anche tutte le sue pubblicazioni che riguardano l'infanzia sia dal punto di vista narrativo ma credo anche dal punto di vista dell'impegno di tipo diverso, più pedagogico, non solo di letteratura. L'occasione fondamentale per parlare con Lodovica viene dall'ultimo libro che è uscito proprio in questi giorni che si chiama Le settimane di Zia Marilu e di cui parleremo in seguito ma prima proprio cerchiamo, come facciamo abitualmente, di entrare nel mondo dello scrittore. La prima cosa che vorrei chiederti, Lodovica, e che ho sempre tratto dal tuo sito, c'è scritto che sei laureata in letteratura italiana comparata alla letteratura inglese. Per me, che ho una preparazione diversa da quella umanistica, cosa significa comparata? Come si fanno a comparare due letterature e renderle univoche in uno studio? Allora, domanda interessante che non mi ha mai fatto nessuno. Innanzitutto è stata una tesi sperimentale perché io ero iscritta alla facoltà di lingua e letteratura straniere ma mi sono laureata in letteratura italiana comparata alla letteratura inglese. Quindi ho fatto una tesi su un testo italiano, in particolare era la Tempesta di Shakespeare che è stato tradotto in Italia per la prima volta dopo due secoli dalla nascita di questo testo. Quindi la comparazione era proprio sulla base della traduzione in italiano della sceneggiatura originale. La comparazione si fa dal punto di vista stilistico più che letterario proprio perché due paesi così diversi come origine culturale e come evoluzione anche letteraria fino a quel momento avevano poco da spartire. Invece la Tempesta è stata poi apprezzata grazie a una traduzione un po' tra virgolette foscoliana che però l'ha fatta accettare in un paese dove la tradizione teatrale era completamente diversa che veniva dal mondo classico, dall'antica Grecia in avanti. Quindi sostanzialmente la Tempesta era una cosa molto distante dall'abitudine degli italiani di quello che vedevano a teatro. Bene, dopo aver esaurito anche questa mia curiosità e saputo del tuo corso di studi parlaci un po' adesso del tuo lavoro che svolgi nell'editoria. So ad esempio che sei anche direttrice di collana per una collana per ragazzi della Bruno Mondadori ma raccontaci un po' perché so che in realtà le tue attività sono molteplici. Le mie attività sono molteplici, la gente si spaventa sempre di questa cosa ma è una conseguenza perché chi come me ha fatto diventare la scrittura che è il mio grande amore, il modo migliore in cui io comunico un lavoro non può tirarsi indietro quando gli chiedono di collaborare in altre cose che stanno tutto intorno alla scrittura. Quindi collaborazione a riviste, andare a scoprire nuovi scrittori, persone che sono in grado di usare la scrittura in modo artistico, partecipare a giurie di premi di scrittura che siano poi i premi dei bambini, cioè lavori dei bambini o lavori di adulti, andare a trovare il pubblico per cui scrivi. Sono tutte cose in più che stanno intorno al lavoro di scrittura che è il nucleo fondamentale della mia professione ma a cui io non mi posso sottrarre perché fanno parte comunque della professione che è molto molto poliedrica. Ad esempio fai veramente laboratori, li ho trovati descritti con questa parola che è molto connotante, anche per insegnanti, corsi di aggiornamento per insegnanti oltre che lavoro con i bambini e basta. Sì, allora la formazione agli insegnanti è la parte più difficile del mio lavoro perché la considero un po' una missione, cioè rendere consapevole questa categoria che ha grande responsabilità nell'educazione alla lettura dei bambini di tutti i mezzi che hanno a disposizione e dare loro un gusto e anche una sensibilità in più nella scelta dei libri che propongono ai bambini. Purtroppo in Italia gli indici di lettura sono bassissimi, quindi molti bambini hanno come unica occasione di assaggiare il piacere di leggere attraverso l'insegnante, quindi i consigli che le loro insegnanti danno sono fondamentali. Allora per me formare gli insegnanti è importante, fargli capire che devono imparare a leggere lo stile, che devono imparare a riconoscere i libri di qualità, che la letteratura per l'infanzia in Italia è nata un po' sotto tono, è stata sempre condizionata dalla pedagogia ma adesso si è liberata ed è vera letteratura a pari dignità delle altre che finalmente cominciamo a esportare all'estero e quindi siamo apprezzati. Non abbiamo grande tradizione come gli inglesi, come i paesi nordici, però cominciamo finalmente a essere un pochino più visibili nel panorama internazionale. Sì, mi ha stimolato una domanda che è strettamente correlata a quella che hai detto. In Italia in effetti gli scrittori per ragazzi, per l'infanzia, sono sempre stati separati in qualche modo dagli scrittori to cure, in maniera forzata sicuramente e molte volte tentativi di intrufolarsi nel mondo altrui sono stati più proficui, utili e semplici per chi già scrittore per adulti, diciamo così, veniva coartato in qualche modo, gli veniva richiesto di cimentarsi anche nella scrittura per l'infanzia, mentre il contrario, scrittori che sono diventati popolari e famosi per questa letteratura, diciamo così, di settore, difficilmente vengono sempre visti in maniera un po' di superiorità dai letterati to cure più mini, ha tentato più volte di entrare nel mondo della narrativa per adulti con risultati, con poca attenzione, non discuto i risultati. La Pizzorno ha tentato adesso di fare un feuilleton per vedere se riesci a sfondare anche nel mondo della editoria per adulti. Comunque, vorrei ancora una notizia sulla tua parte più professionale, ma direi che già le tue prime parole ci fanno capire come la tua non sia solo una professione ma anche una passione. Presumo che tu, entrata in questo mondo, non avresti fatto nient'altro. Questo posso dirlo come per me è la stessa cosa, perché anch'io lavoro con i bambini, faccio il pediatra e non farei nessun altro mestiere se non questo. Comunque, l'ultima domanda che ti voglio fare in questo senso e che ho sempre tratto dal tuo sito internet, è che tu insegni e tieni corsi anche ai master per l'editoria dell'Università di Milano. In questo settore di impegno, lavori sempre nella letteratura per ragazzi? Sì. Allora, insegno da tre anni al master per l'editoria dell'Università Statale che è organizzato in collaborazione con la Fondazione Alberto Arnoldo Mondadori. È uno dei primi master che è stato organizzato in Italia, adesso poi ce ne sono altri. Io sono responsabile di un piccolo settore che si occupa di narrativa per ragazzi e di tutto quello che sta intorno a livello redazionale e editoriale alla narrativa per ragazzi. Quindi i miei studenti imparano a gestire questo, tra virgolette, prodotto, che è un prodotto, come hai detto tu, di settore che ha le sue caratteristiche, che deve essere valorizzato in certi modi molto specifici. Quindi io insegno queste tecniche ai ragazzi. Molto bene. Direi che le principali curiosità per quanto riguarda Lodovica e il suo lavoro ce le hai chiarite, le curiosità che io avevo e che penso possono interessare anche chi ci ascolta. Ma direi che è il momento di entrare nel settore più preciso del tuo ultimo libro, la uscita più recente, proprio che credo sia di pochi giorni fa, che è questo simpaticissimo libro che si chiama Le settimane di Zia Marilu e del quale ti chiedo di fare un breve riassunto, una breve sinossi per gli ascoltatori. Sì, allora, è un libro che io molto presuntuosamente ho ideato dopo aver letto un piccolissimo libro pubblicato da Delphi di Colette, che si chiama Cherie. Mi è venuto in mente che lì c'era una bambina che andava a pranzo da una zia e mi è venuto in mente che in effetti le zie possono avere un ruolo importante nella vita di alcuni nipoti e ho creato questo personaggio che è Giulia, una bambina di nove anni, che è l'ultima nata e ha altri quattro fratelli maschi prima di lei. Quindi è un pochino, in famiglia, un pochino trascurato, comunque sballottata. E invece la zia, che è una zia single, che ha molto tempo a disposizione, che è anche un po' strampalata, le dedica l'attenzione di cui lei ha bisogno. E l'attenzione va di settimana in settimana, perché la bambina va a trovarla tutte le settimane. Ogni settimana la zia si inventa un tema da vivere più che da trattare e da giocare insieme alla bambina, in modo che la bambina si senta così accudita, amata. Ogni capitolo della storia è una visita settimanale di questa bambina alla sua zia. Io ti chiedo di commentare l'impressione che ho avuto leggendo il tuo libro. Ho vissuto questa storia un po' come una controscuola. Infatti, tutte le settimane Giulia va dalla zia per imparare qualcosa di nuovo. E questa sua esperienza è sicuramente una scuola di vita, ma è anche una scuola di sogni. La zia la insegna anche a sognare e a desiderare precisamente quello che ama. Dobbiamo pensare che questo modo di imparare, diverso da quello scolastico, è una contestazione a quello che è la scuola normale. Devo dire comunque che zia Marilu le insegna anche ad amare la matematica, che credo sia veramente un impegno spropositato. Sì, allora non è proprio una controscuola, ma è un, come dici tu, un momento di esperienza. Un momento di esperienza che mi sembra i bambini di oggi non hanno più tanta occasione di vivere, perché vivono in accelerazione, come dico io. Sono sempre presi da mille impegni e hanno dei genitori che lavorano e che dedicano loro relativamente poco tempo, magari qualitativamente ottimo, ma poco. In questo caso ho voluto regalare tanto tempo alla nipote e alla zia da vivere insieme, perché sono sicura che esperienze vissute insieme, anche semplicemente, istintivamente, come avviene tra la zia e la bambina, poi restano nell'immaginario e nella coscienza proprio cognitiva della bambina per tutta la vita. Questo l'ho provato sulla mia pelle e l'ho sperimentato anche sui miei figli, che si ricordano di determinati momenti vissuti con una persona adulta o con un'altra persona e li portano come bagaglio proprio per la vita. Devo dire che ho molto condiviso la storia delle settimane di Zia Marilu e condivido questo discorso perché io sono plurizio, sono tre volte zio e tre volte prozio. Tutti i miei nipoti li ho portati in giro per il mondo e mi illudo che anche loro abbiano trattenuto da queste esperienze con il loro zio originale come la zia Marilu. Non devi illuderti, è sicura. Spero che il risultato sia quello che alla fine leggiamo nel tuo libro e sono parole di Giulia. Il risultato è che sono cresciuta e mi sento più forte, che credo sia una splendida chiusa per un libro come questo. Adesso ti chiedo di leggere qualcosa per introdurci al tuo stile, alla tua scrittura. Sì, allora io ho scelto appunto da questo libro un passaggio in cui Giulia viene accompagnata dalla zia a un'inaugurazione in una galleria d'arte. Dunque, vediamo un po'. Andiamo a un vernissage. Non avevo idea di che cosa significasse. Intuì che avesse a che fare con i colori, visto che avevamo già discusso di blu e di celeste e che adesso mi aveva accennato al vernissage. Cominciai a preoccuparmi perché non volevo sporcarmi di vernice. I pantaloni blu erano gli unici che possedevo. Mi sarebbero potuti servire per altre occasioni importanti. La zia comprese al volo. Stavo rimuginando sulla vernice e lei sorrise generosamente. Poi si decise a spiegarmi. Andiamo all'inaugurazione di una mostra alla galleria Volare, in centro. Teresa Blanc espone una nuova serie dei suoi quadri di sogni. Vedrai, ti piacerà. Chi è Teresa Blanc? Ero molto ignorante in fatto di pittori. Era un'amica di tua nonna, un tipo eccezionale. Ha viaggiato in tutto il mondo per dipingere nuvole e vento. Un'artista unica nel suo genere. La zia parlava come la signora di un documentario in tv. Sembrava una cosa seria, quindi la seguì incuriosita. Arrivata in centro, capì subito qual era la nostra destinazione. La galleria d'arte era tutta illuminata. A dire il vero ci voleva poco, perché sia i muri sia il pavimento erano tutti bianchi. Di un bianco candido che quasi quasi sapeva di ospedale. Le uniche macchie di colore erano nei quadri. Incrostati, tutti sulle variazioni di blu, azzurro e un po' di bianco. Non sapevo decidere se quello che si presentava davanti a me in quel momento era bello o brutto. Ma la zia sembrava entusiasta. C'era tanta gente lì attorno. Lei salutava a destra e a sinistra. Conosceva quasi tutti. In mezzo alla mischia ci scontrammo con una grossa grassa signora vestita di blu. Una specie di balena di terra. Aveva solo una larga bocca rossa di rossetto passato di moda. Anche lei mi lasciava perplessa. Non mi sapevo decidere se avesse l'aria simpatica completamente matta. Non avevo ancora deciso quando la zia mi presentò, orgogliosa. Teresa, ti ho portato mia nipote. Siamo così impazienti di vedere le tue ultime creazioni? Io sorrisi più convinta che potei. E la signora mi accarezzò come se fosse un bel cagnolone. Poi si scansò e improvvisamente, davanti a noi, si aprì uno squarcio di luce. E comparve una enorme, meravigliosa tela. Sì, appena la vidi, compresi che quella, per me, era davvero bella. Mi emozionai e credo che la zia comprese, perché mi sussurrò all'orecchio. Il pittore non deve dipingere quello che vede, ma quello che si vedrà. Lo ha detto un grande poeta francese, Paul Valéry. Tu che cosa vedi ora? Mi spinse dolcemente verso il quadro e io mi ci sentii quasi dentro. La pittrice era di fianco a me. La zia mi fissava contenta. Aveva capito che ero stata rapita da quell'onda di colore. Poi l'enorme signora disse solennemente Riesci anche a sentire l'odore? Sì, risposi. Sento il sapore del mare. Non aggiunsi altro e distorsi lo sguardo. Uno splendido prezzo, delicatissimo, grazioso, ma anche profondo. Ma che mi dà il destro per farti una domanda forse un po' più tecnica, ma non del tutto, perché garantisce comunque una indicazione sulle tue scelte. Hai scelto di leggere un pezzo in cui la parte cromatica, visiva, è molto importante. Che rapporti hai con gli illustratori delle tue storie? Hai persone di cui ti fidi solamente, accetti qualche volta il diktat degli editori oppure hai una scelta anche decisa e conclusiva, finale, sulle illustrazioni dei tuoi libri? Allora, devo rispondere in due modi. Allora, primo, per contratto l'editore tiene il boccino, nel senso che decide, ha il potere di decidere quale illustratore affibbiare al mio testo, in generale. Secondo, quando invece io faccio la progettista vera e propria, quindi sono l'autore del progetto editoriale, sono responsabile sia della parte grafica che della parte iconografica. Quindi lavoro in equip con delle persone che fisicamente materializzano l'idea che io ho in testa. E questo soprattutto per i libri dedicati alla prima infanzia, in cui il testo è una parte limitata, ma l'ideazione del prodotto nella sua complessità è molto importante. E quindi io sono il progettista, non più solo l'autore. Allora, in questo caso ho il mio grafico, il mio illustratore, che mi scelgo personalmente e che lavora per me. Per quanto riguarda le settimane di Zia Marilu, l'illustratore è un pluripremiato italiano che assomiglia molto al famosissimo Quentin Blake inglese, che è Anton Jonathan Ferrari, e sono molto contenta che abbia accettato di illustrare questo libro, perché gli ha aggiunto un appeal, qualcosa che mancava, insomma, che non gli può fare che bene. Ancora una curiosità, visto che abbiamo parlato di produzione, lavoro, scrittura, si narra di una fantasmagorica, di un fantasmagorico sottotetto di una soffitta nella quale ti ritiri a scrivere. È realistica questa narrazione o è una leggenda urbana? È realistica. In realtà il mio studio è un sottotetto sopra l'appartamento in cui vivo, dove è la mia tana, sostanzialmente, dove ci sono tutte le cose più preziose, in primis i libri, e lì io vado anche di notte quando mi viene un'idea o sto delle ore a pensare e pochi altri hanno accesso a questo buco protetto, diciamo. È un tuo spazio di scrittura che forse hai, presumo, utilizzato anche per scrivere questo altro libro di cui ti vorrei, che si chiama Il letto delle stelle, di cui ti vorrei fare una domanda molto caratterizzata, molto precisa, che penso possa interessare molto il tipo di ascoltatori che abbiamo ad Arco Iris. Verso la fine di questo bel romanzo per bambini viene trattato l'argomento della solidarietà. I bambini sono un po' costretti dalla mamma, anche contro voglia, a regalare una parte dei loro giocattoli ad un signore che li porta, in questo caso in Bulgaria, ad una famiglia povera, con la quale poi inizierà uno scambio epistolare. Da una parte c'è il bambino che, come sappiamo dalla nostra cultura scientifica, è in un certo qual modo il vero narcisista, il narcisista assoluto. Dall'altro c'è un valore importante col quale confrontarsi. Sei convinta che la letteratura per l'infanzia abbia anche un valore pedagogico portante ed educativo? Certamente. Avevo accennato prima, la letteratura per l'infanzia in Italia è nata come strumento per la pedagogia, per l'educazione in generale. Quindi, inizialmente, questa caratteristica era negativa, perché ha schiacciato la dimensione più creativa e più artistica della letteratura per l'infanzia, condizionandola a letteratura funzionale, funzionale alla pedagogia e all'educazione. Ci abbiamo messo un secolo per liberarci da questo gioco, ma comunque fa parte delle nostre radici. La responsabilità di un operatore culturale che scrive, in questo caso, per i ragazzi è comunque una responsabilità anche educativa. Quindi non possiamo toglierci questa dimensione, possiamo però andare oltre, cioè creare letteratura, che sia letteratura appunto, e che tra le altre cose abbia anche una valenza educativa. Da grande competente, esperta, quale sei, del settore, mi viene spontaneo farti una domanda su una certa deriva che ha preso invece, che ha utilizzato meglio i mezzi della comunicazione per l'infanzia, come il fumetto, eccetera, per trasportare il mezzo ad una tematica adulta e spesso anche molto sgradevoli, perché trovo ragazzini che parlano come Homer Simpson e si stanno moltiplicando, ad esempio, i programmi di animazione in cui il linguaggio è tutt'altro che sorvegliato, i temi sono crudi, violenti, oppure, ad esempio, quanto abbiamo trasportato nella nostra cultura una realtà figurativa e creativa come quella dei manga giapponesi, così lontani, che sono stati sicuramente pensati per un pubblico adolescente avanzato, diciamo così, un pre-adulto, ma che finiscono inevitabilmente ad essere fruiti anche dai bambini più piccoli. Questo è il pericolo della comunicazione così, soprattutto televisiva, di cui io non sono un'esperta. certamente l'assistenza della famiglia degli adulti nel fruire un mezzo come la televisione è fondamentale. Credo che possiamo essere ottimisti perché dopo aver battagliato per anni e anni, direi anche una decina d'anni, adesso i genitori sono un pochino più critici e un pochino più attenti a quello che i loro figli guardano. Certamente sono passati tutti questi cartoni animati. Il fenomeno Simpson è un fenomeno di provocazione, di trasgressione che viene poi superficialmente attribuito all'infanzia mentre è stato creato per tutti. In realtà è un cartone animato per adulti che poi è stato messo nei programmi per bambini o comunque nelle fasce orarie in cui i bambini possono vederlo. In Italia c'è una produzione molto più di qualità di cartoni animati, qualcosina è stato fatto. Per quanto riguarda i libri, l'editoria, anche lì c'è di tutto, cioè è uguale, l'ambiente è uguale, c'è l'editoria cheap, come si dice, in cui gli autori non sono autori, in cui si riciclano immagini, in cui sono prodotti a basso costo, eccetera, e poi ci sono invece i professionisti che evidentemente hanno un pochino più di costo ma che fanno molta ricerca. Io personalmente, essendo una scrittrice, faccio ricerca sullo stile, sulla comunicazione, quindi il mio modo di scrivere evolve, si vede dai miei libri, dal primo agli ultimi, ho anche sperimentato delle tecniche di comunicazione che si avvicinano molto all'immagine. Tu prima dicevi, hai scelto un brano in cui il colore... Molto visivo, esatto, perché il modo di comunicare con i bambini è cambiato negli ultimi tempi, quindi è importante dargli degli stimoli che poi loro possono sviluppare dal punto di vista immaginativo. Non ci sono più descrizioni nei testi moderni, non ci sono più descrizioni intese classicamente, come possiamo trovare nei grandi classici, ma le descrizioni sono date da metafore un po' graffianti, da dialoghi molto aritmati e l'atmosfera, la sensibilità del testo viene da altre tecniche, cioè da altre dimensioni. La descrizione è scomparsa perché rallenta troppo il ritmo narrativo. Su questi dettagli di scrittura io faccio molta ricerca e cerco di migliorarmi sempre di più in modo da arrivare a offrire al mio pubblico un linguaggio vicino al suo mondo, ma nello stesso tempo di buona qualità. Quindi è un equilibrio delicatissimo, non bisogna mai scendere nello slengo, nel modo di dire troppo parlato, aggiungere sempre uno stimolo in più proprio dal punto di vista metalinguistico, oserei dire. Molto bene, ringraziamo Lodovica Cima per questa brillante, divertente, preziosa conversazione e chiudiamo l'incontro di oggi con la nostra chicca finale abituale e oggi ho scelto lo scrittore ungherese Peter Esterasi che ha due simpatiche buttad ma che devono far meditare. La prima è questa, dice lo scrittore dovrebbe descrivere lo scemo del villaggio e poi scoprire ma quello sono io e poi ancora dovrebbe descrivere i difetti di un prete in modo che anche un bolshevico si senta attaccato. Meditiamo. Grazie a tutti.